Il cavaliere proprietario Domenico Giannitti si tenga pronta la testiera 72 a seguire la 118. Il cavaliere proprietario Domenico Giannitti si tenga pronta la testiera. Il cavaliere proprietario Domenico Giannitti si tenga pronta la testiera. Il cavaliere proprietario Domenico Giannitti si tenga pronta la testiera. Il cavaliere proprietario Domenico Giannitti si tenga pronta la testiera. Il cavaliere proprietario Domenico Giannitti si tenga pronta la testiera. Domenico Giannitti si tenga pronta la testiera. Grazie. Grazie. Siamo Domenico Gianditti. Controllo e invocatura, grazie. Controllo e invocatura, grazie.